I campi, e quelli da che sono più vicini, sono proprio quei campi francescani, ho trovato degli ottimi alleati in questo, il maestro sovrano Anna Maria Bertullo e il maestro Antonino De Rosa, che la compagni a piano, e ci presentano appunto dei brani francescani. Il primo, e molto conosciuto, e molto caro di tutti quanti noi, è il Ritz-Politorale, fratellissimo che sarebbe da lui. Grazie. 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 Grazie.